Maso Parasiliti, una partita oggi che nel primo tempo sembrava un po' più semplice di quella che si è arrivata nel secondo, cosa vi è mancato secondo te? Come settimana scorsa a Roma ci è mancato la testa, la mentalità di poter sapere che bisogna andare avanti in tutta la partita, tenere lo stesso ritmo e anche se la partita sembra finita continuare a fare il nostro gioco. Il gioco vittorio è importante, vi consente di scavalcare proprio la bersaglia diretta in classifica, quali sono i vostri obiettivi in prospettiva per le prossime gare? Giovedì abbiamo allenamento per rinvistare la partita di domenica prossima. L'ultima cosa, in casa avete raggiunto tre vittorie consecutive, fuori casa ancora qualcosina manca, secondo te perché le vittorie sono solo in casa e non in trasferta? Il problema è sempre là, dobbiamo lavorare sull'approccio sia alla partita ma soprattutto tenere la concentrazione alta perché anche settimana scorsa abbiamo fatto una buona partita però ci è mancato l'allenamento mentale. Grazie. Grazie.